È un elemento fondamentale il mantenimento dell'occupazione. Salviamo il lavoro. È l'appello che, con Fartigianato Vicenza, rivolge al governo. Si apre la stagione della convivenza col virus, della produzione in convivenza col virus. La grande sfida oggi non è solo ripartire, ma anche mantenere il livello occupazionale. Le nostre aziende sono aziende che investono tantissimo tempo per formare i propri collaboratori. E sarebbe un peccato perdere queste competenze. Capiamo che ci sono dei settori che stanno soffrendo, e mi riferisco a tutti i comparti collegati al turismo, ma anche a tutti gli eventi, a tutte le sartorie che lavorano per i teatri, ai fotografi, a tutto quel comparto che lavora all'interno per gli eventi del matrimonio stesso. Queste sono persone che hanno a monte tantissimi anni di preparazione. Dunque il governo deve avere un'attenzione molto particolare per dare degli incentivi a questi imprenditori per mantenere in carico le persone con grande qualità e con grande specializzazione. La qualità delle aziende dipende dalla preparazione delle maestranze impiegate che vengono formate in anni di lavoro. Quindi perché le imprese possano intercettare la ripresa, oggi è fondamentale che venga salvaguardato il loro primo investimento, quello sul personale specializzato. Il lavoro è un elemento fondamentale, e nel momento in cui arriveranno tutti i fondi della comunità europea dobbiamo avere l'opportunità di percepirli e di avere già le maestranze preparate per affrontare il mercato con grandissima qualità come sono le nostre aziende di tutto il nostro territorio.